ragazzi statemi a sentire bene la delinquenza aumenta giorno per giorno sempre di più stamattina andremo a lavorare saremo di pattuglia in una zona molto calda molto pericolosa quindi state allerta svegli maresciallo una disgrazia al posto di blocco è morto l'ha appuntato cargiulo un maroni capito ha necciso una penata ma voi lo conosceva questo blocco